Volete firmare per l'articolo 18 per estendere i diritti anche alle piccole imprese? Giuditta Lembo, un anno importante questo perché ci prepariamo all'Expo e quindi evidentemente anche il problema delle donne assume una rilevanza insomma speciale. Sì, quest'anno ricorrono i 20 anni dalla piattaforma di Pechino del 1995 e dopo 20 anni vogliamo tracciare un po' il punto della situazione, dopo questi primi diritti che sono stati riconosciuti alle donne, l'affermazione dei primi diritti delle donne, vogliamo capire a distanza di 20 anni a che punto siamo e partendo proprio a livello regionale, in tutte le regioni sono partiti da Roma il 5 dicembre scorso questi stati generali, approderanno un po' in tutte le regioni, io ho voluto che venissero anche in Molise, il 17 prossimo di aprile si terranno qui a Campobasso presso l'Istituto Pilla e avremo la presenza e l'onore di ricevere in Molise una delle più alte cariche dello Stato che è la Vice Presidente del Senato Valeria Fedeli. Oggi siamo qui alla Fondazione Potito che è un nostro partner in questo bel percorso che andremo a fare e con la Fondazione Potito affronteremo una delle prime tematiche che saranno poi il cuore degli stati generali del 17 che è il lavoro, quindi a me piace lavorare, è un film della Comencini bellissimo che penso un po' tutti conosciamo e che sicuramente vuole essere un primo segnale che va nella direzione del riconoscimento del valore delle donne nella società e nel mondo. Dottoressa Iole Antinolfi, in qualità di membro del Comitato d'Onore degli stati generali delle donne in Molise, può spiegarci l'evento di questo pomeriggio aspettando gli stati generali? Sì, quello di stasera è il primo dei due eventi aspettando gli stati generali che precedono quello del 17 aprile nel quale ci sarà la proclamazione degli stati generali permanenti delle donne in Molise, che sono partiti da Roma lo scorso 5 dicembre. L'incontro si svolgerà a Campobasso presso l'Istituto Pilla per confrontarsi sul tema in vista di Expo 2015 e della Conferenza Mondiale delle Donne, Pechino 20 anni dopo, in programmazione a Milano a settembre. Ospite d'onore sarà la Vicepresidente del Senato, Valeria Fedeli. L'incontro di oggi invece è un prezioso momento di riflessione che ci fornisce un'occasione per dialogare sugli elementi di criticità che ancora oggi ostacolano la piena realizzazione della parità di genere in Italia, in Europa e nel mondo. Grazie alla Cineteca Nazionale Italiana, Centro Sperimentale di Cinematografia e al suo direttore, dottor Gabriele Antinolfi, che stasera abbiamo assistito alla proiezione del film Mi piace lavorare Mobbing, un film selezionato al Festival di Berlino, diretto dalla regista Francesca Comencini, interpretato dall'attrice Nicoletta Braschi. La società che ha comprato è una società che ha una filosofia molto precisa, la flessibilità totale, la disponibilità completa dei dipendenti. Non interessano i vostri problemi personali, i carichi di famiglia, le fatiche di tutti i giorni, non contano niente, flessibilità totale significa disponibilità 24 ore su 24. Ecco una piccola. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.